ciao a tutti amici di teroma view ben trovati eccoci qua con un nuovo unboxing e oggi andiamo ad unboxare come da titolo la steelbook del ventesimo anniversario di fast and furious primo capitolo di una saga che ormai è arrivata a capitolo 9 che sarà anni cinema quest'estate saga che non credo abbia bisogno di presentazioni e che proprio in questo primo capitolo ha trovato il suo massimo esempio probabilmente delle corse automobilistiche che poi man mano sono andate perse in favore magari di film un po più d'azione un po più spettacolari non che questo non lo fosse anzi lo era già di suo però probabilmente è il migliore della della saga edizione come dicevamo del ventesimo anniversario che esce per la prima volta con il 4k del film ottime notizie da questo punto di vista nonostante il master del della precedente uscita quella del 2009 del blu ray che è presente all'interno di questa confezione era già di per sé un ottimo master con il 4k andiamo a migliorare da un punto di vista di definizione colori e quant'altro non c'è un grandissimo balzo in avanti ma le differenze sono percepibili e sono da promuovere in pieno è una steelbook devo dire di linea abbastanza economica dopo andremo a scoprire perché e la trovate disponibile in due edizione in questa edizione che vi vado a presentare io che l'edizione dei poveri e poi c'è l'edizione un po più da collezionisti che vogliono avere anche un po di feticcio con un po di gadget istica cartacea in questo caso cartoline e due piccoli booklet uno sul sul film con la sceneggiatura e l'altro non ricordo se è presentazione personaggi o quant'altro insomma comunque tutti i gadget cartacei ma andiamo a scoprire la steelbook steelbook che come al solito viene presentata con il fogliettazzo dove ci sono scritti tutti i dettagli e gli extra attenzione che qui c'è subito un errore perché qui ci dice contenuti speciali 4k e ultra hd qualcuno può pensare che come tutte le precedenti uscite della universal 4k all'interno gli extra sono anche sul disco 4k in realtà no sul disco 4k c'è solo un extra è il commento al film del regista tutti gli altri extra che sono i vecchi extra della precedente versione sono all'interno del blu ray che vi ricordo che è quello già uscito anni fa quindi il master 4k è un pelino migliore di quello vecchio ma è praticamente lo stesso master perché era stato restaurato nel 2009 quindi non aspettatevi stravolgimenti da dal master 4k questa è la steelbook figura intera guardate secondo me è molto molto bella graficamente anche se magari non si sono sprecati come artwork però riprende è uno dei tanti poster ed è veramente bello ed evocativo dalla parte posteriore troviamo anche quest'altra bellissima immagine se la andiamo a vedere a figura intera eccolo qui guardate che sciccheria devo dire che esteticamente per quanto riguarda l'artwork è molto bello la steelbook invece di quelle sottiline di quelle un po più economiche insomma è abbastanza sottile appena la notella la prenderete insomma la noterete al tatto che è più sottile rispetto magari ad altri stile come quelle che usa spesso la disney all'interno abbiamo questa splendida immagine protagonisti giovanissimi e poi ovviamente i due dischi il nuovo disco 4k e il disco blu ray il disco 4k come vi ho già accennato a un buon miglioramento per quanto riguarda la risoluzione definizione del quadro ovviamente va a maggiorare la risoluzione i miglioramenti sono lievi perché il master è più o meno quello del 2009 quindi quello già restaurato per il decimo anniversario del film e lo trovate ovviamente all'interno di questo disco che è proprio lo stesso di dieci anni fa stesso menu e quant'altro devo dire si sono sprecati in merito a un'edizione ma universale sta facendo un po tutte così per un ventesimo anniversario magari mi aspettavo qualcosa di più qualche extra inedito ma e niente sono gli stessi del del passato anche il menu del disco blu ray è abbastanza statico poi lo vedrete quando lo farete vostro e poi andiamo a rivedere l'immagine interna guardate che bella tutti i ragazzetti guardate bin diesel non era neanche pompato come è pompato adesso la rodriguez giovanissima il buon caro e defunto paul worker pace all'anima sua giovanissimo e poi tutti gli altri protagonisti di una bellissima immagine interna per un film che ha fatto storia tra l'altro vi ricordo che c'era anche un fast and furious all'italiana che è uscito qualche anno dopo che era a velocità massima con valerio massandrea come protagonista e questo era ragazzi la steelbook di fast and furious come al solito vi lascio in descrizione i link ad amazon dvd store se siete interessati a questa versione o alla versione da collezione se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornata sull'uscita dei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti